Che tu sei in mezzo a noi, con noi, e ci guardi, ci guardi, Gesù. Guardaci negli occhi, nel cuore, è tutto per vivere la vita, vogliamo vivere la vita, la vita, la vita con te. Gesù, sono contenta e sono felice di essere povero, ma sei sempre tu, Gesù, che fa tutto quello che vuoi da me. Gesù, grazie, 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 perché sei qui e ascolti, ascolti, guardi. Gesù, 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 Gesù. Credo in Dio, Padre Onnipotente. Creatore del cielo e della terra, è in Gesù Cristo il suo unico figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, padì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu secolto. Gesù, 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 Gesù. Discese dagli inferi e il terzo giorno risuscitò dai morti. ». «Sali al cielo, siedi alla destra di Dio, Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e militarii. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione eterna.